Cento e più chilometri alle spalle, cento da fare Il sicuro non arriva più qualcuno dei miei Tutta quella gente che ti grida non ti fermare E tu che mi vuoi lasciare, non ci provare, non mi stancherò Gentili signore e signori, buongiorno Apriamo la telecronaca di questa tappa importantissima con un omaggio a Gino Bartali Questa tappa infatti è Memorial Gino Bartali che ora vedete con un giovanissimo Vincenzo Torriani Anche se su queste strade iniziò la leggenda di Fausto Coppa